L'Engambiente WWF Abruzzo e la sezione locale del WWF Zona Frentana e Costa Tiatina hanno presentato le loro osservazioni al rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica relativa alla proposta di un nuovo piano regolatore del comune di Ortona. Le associazioni giudicano questo rapporto deficitario e da integrare sia con dati aggiornati che con ulteriori indagini ambientali. Ne sollecitano inoltre il necessario allineamento e adeguamento ai PAN delle aree protette presenti nel territorio e a tutti gli strumenti sovraordinati compreso il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5 del 2007. Siamo partiti da Ortona perché il problema non è solo Ortona, il problema è l'intera gestione della costa di Trabocchi che a nostro avviso deve avere degli elementi di sostenibilità. È paradossale che ogni volta che noi dobbiamo allineare gli strumenti di gestione del territorio ad elementi sovraordinati. Parliamo di piani di resilienza, parliamo di piani energetici, parliamo dello stesso parco della costa di Atina come parliamo della stessa via verde. Nel momento in cui comuni, regioni e province devono fare quadrato per un sviluppo sostenibile della costa noi incorriamo in queste criticità ovvero nella rincorsa di progetti ormai superati e rischiamo che mettiamo in campo azioni che non sono rispondenti al piano nazionale di riprese e resilienza, quindi di perdere anche i finanziamenti che vanno in quella direzione. Non c'è più tempo per piani regolatori stravecchi e cotti, dobbiamo andare nella direzione della sostenibilità e dobbiamo finalmente mettere in piedi un'azione che tuteli veramente il consumo di suolo a zero. Quello che abbiamo chiesto a chi ha redatto il rapporto ambientale per il piano regolatore del comune e il comune stesso è essenzialmente un'attenzione rispetto alla nuova programmazione del territorio. Tutti i piani di ripresa ci chiedono un consumo di suolo zero e ci chiedono un'attenzione alla conservazione della biodiversità. Quello che manca nel rapporto ambientale è una visione sul sistema ambiente, quindi uno studio fatto anche di indici che spieghino come questi interventi vadano a interferire con la connettività ecologica del territorio e vadano ulteriormente a frammentare gli habitat naturali presenti. Ricordiamo che sulla spiaggia di Ortona, tra il Foro e l'Arielli, c'è una delle stazioni più importanti, più grandi di presenza di nidificazione del fratino che è una specie protetta e che perdere questa popolazione sarebbe un danno per tutta la regione Abruzzo.